Come si è scelta questa colonna con ora? Ma diciamo ci sono stati scelti dalla televisione Fox la quale poi ovviamente grazie anche a Sony che ha fatto da tramite si è stata proposta questa canzone di Carrie Underwood che si è piaciuta fino a subito e poi ovviamente è stata un po' raranzata e un po' diciamo adattata alle nostre voci sono state investite delle voci di Tarse e quindi l'abbiamo reso un po' più alla sonora Allora io invece vorrei andare a commentare anche la classifica con voi perché oggi è Natale, è bellissimo stare qui con voi e insieme anche a Sonora e la classifica risente molto dello stile di Natalizio tanto che la posizione numero 44 c'è un altro plasticone meravigliato, bellissimo perché prima la stile di Natalizio era accettata E' quello l'ho accettato E' quello l'ho accettato E' allora lì Ah è vero L'ho accettato E' allora lì L'ho accettato E' l'ho accettato L'ho accettato No Grazie.